Terramostra prosegue le serate attorno alla iniziativa della festa della Madonna delle Granze e prosegue con presentazioni di libri. C'è la presentazione, un omaggio per la verità, a due poeti, Marco Brizoli e l'altro Papiri. La cosa importante di questa sera è che ci sono tra i presenti molti altri poeti che sono stati amici di Lucio Cancellieri, quindi Marco Brizoli e Papiri. Quindi una serata dedicata alla poesia, alla poesia in generale. Abbiamo dei poeti che sono venuti niente meno da Nereto, da Roseto, una serata direi provinciale della poesia. Sono molto felice e molto onorata di essere qui perché mi fa piacere che Terramo ricordi Mirko. Mirko era amante della sua città, quindi ha dedicato tantissimi versi alla sua Terramo. Non solo, è bello poterlo ricordare con tutte le persone amiche che lui ha incontrato nel suo percorso. È un libro di diversi che Marco Brizoli pubblica. Io ho avuto modo di presentare la sua precedente opera a Giulianova prima che scoppiasse la pandemia. Ora oggi siamo qui con le cose che sembrano andare un po' meglio, quindi speriamo che sia anche di buon auspicio. Ed è un quaderno di riflessioni sulla vita, sulla radicalità del sentire e sul radicamento del vivere. E in questa doppia polarità Brizoli installa tutta una serie di suggestioni e di ripiegamenti che fanno di lui un pensatore prestato al verso.